Salve, buongiorno a tutti, siamo con Gaetano Penna, candidato alle nuove elezioni politiche che si svolgeranno fra poco, tra qualche mese ormai, a Siracusa. Evoluzione Civica, un'associazione che credo non solo è un'associazione ma è un movimento politico nato anche per come controllare a quelli che sono i problemi socio-economici di una città che comunque è allo sbando. Assolutamente sì, ci siamo costituiti circa tre anni e mezzo fa, per questo noi ci contraddistinguiamo tra gli altri movimenti che stanno nascendo in questo momento, non per la competizione elettorale, ma inizio perché abbiamo dato un contributo e vogliamo continuare a dare un contributo alla nostra città per cercare di diventare il più virtuoso possibile. Abbiamo stirato un programma elettorale, quindi abbiamo chiamato manifesto politico programmatico, dove è rappresentato in otto punti, parliamo del riordino e del ripristino delle nostre bellezze naturalistiche, parliamo del ripristino di tutte le potenzialità che un'amministrazione può avere, parliamo della riprogrammazione dei servizi sociosanitari, parliamo del riordino... E là subito perché abbiamo parlato di una città che comunque volge a un declino etico e culturale e anche vedo che comunque nelle vostre otto R che raggruppa poi anche il vostro quadro politico, quello che sarà, cioè recupero la promozione del territorio, il riordino dei servizi mercatali, il rilancio delle politiche culturali e turistiche e poi... È una città che è in forte difficoltà, ha una dispennea notevole, quindi è in grossa sofferenza. Dobbiamo cercare di contribuire a migliorarla, ecco perché ci siamo costituiti tre anni e mezzo fa e vogliamo continuare a dare questo contributo. Sono dei punti che a nostro giudizio ricalcono un po' quello che sono i punti cardine di una buona amministrazione, parliamo dell'efficienza, parliamo del buon andamento, parliamo di punti che anche consensano nella economicità perché sappiamo che un'amministrazione non può sperperare il denaro pubblico. Il denaro pubblico appartiene al cittadino che lo somministra attraverso le tasse, le CISE e quant'altro e quindi deve ritornare in termini di servizi. Noi siamo per alcuni servizi che si sono stati privatizzati al privato, tipo l'acqua pubblica perché deve ritornare nel privato, perché bisogna migliorare i servizi, perché tali servizi, per esempio nel servizio idro integrato, si sono molto carenti. Da giornalista le faccio una domanda, ovviamente non c'è la bacchetta magica per poi risolvere i problemi, ma questa Siracusa è veramente versa in uno stato di abbandono oppure solo un manifesto politico o qualcosa di più che comunque voi sentite come avete contatto con la gente? Guardate, da tre anni e mezzo noi stiamo cercando di martellare questa amministrazione per stimolarla, non tanto per attaccarla ma stimolarla per creare nuove energie positive per questa città. Quindi noi abbiamo fatto, anche abbiamo sottoscritto un manifesto che è chiamato la buona politica al servizio a tutela dell'interesse pubblico, perché deve tornare la buona politica per esserci un servizio pubblico elevato, di qualità e quindi per tutelare l'interesse pubblico bisogna avere soltanto una buona politica e una buona amministrazione. Il vostro candidato? Il nostro candidato è Paolo Ezzichereale, abbiamo una sorta di continuum dalle scorse amministrative, l'abbiamo appoggiato cinque anni fa perché riteniamo di essere un candidato di qualità e di spessore politico-culturale, quindi speriamo che questa volta possiamo vincere. Oggi l'incontro con la stampa per presentare il vostro manifesto politico-programmatico è Evoluzione Civica, che si candica come gruppo. Lei è candidato? Sì, siamo a sostegno della coalizione di Paolo Ezzichereale. Voglio sottolineare un aspetto del socio-sanitario che per noi è fondamentale, abbiamo dato anche una percentuale molto ampia in una fetta rappresentativa del nostro programma, perché riteniamo che si dobbiamo scollare da quel sistema assistenzialistico che è il sistema dei servizi socio-sanitari. Deve essere un sistema dinamico, soprattutto applicando quella legge nazionale che è la 328, che permette ai servizi socio-sanitari di prendere il volo.